Salve fratelli e sorelle bianconeri, in questo video cercherò di spiegarvi brevemente i motivi per cui ritengo paratici un incapace, un inadatto al ruolo che ricopre. E allora, molti siti sportivi, molti giornali sportivi hanno riportato un po' tutti la stessa cosa. Che la Juventus aspetterà febbraio e oltre comunque per discutere il rinnovo contrattuale di Dybala, le proposte comunque che starà lui e ai suoi genti valutare o no. Ma per non distogliere la mente di Dybala durante la sessione di mercato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ipotizziamo che l'accordo tra le due parti non si trovi. Che cosa succede? Una volta che è finita la sessione di calcio-mercato, cioè che Dybala non è più vendibile, febbraio, marzo, eccetera, eccetera, discuti, anche aprile, discuti questi termini. Gli agenti Dybala rifiutano. Che cosa succede? Che cosa succede? Non lo puoi vendere più, gennaio è passato. Tu ti trovi a iniziare la prossima stagione con un giocatore in scadenza contrattuale, praticamente, il giugno successivo. Una cosa pazzesca da fantascienza nel calcio di oggi professionistico io non ho mai visto una cosa del genere. Da quando è entrata la legge Bosman dal 96 io non ho mai visto una roba del genere perché nel 99,9% dei casi i contratti si rinnovano prima del penultimo anno. Prima del penultimo anno di un giocatore in quella squadra. O si vende o si rinnova, ma prima del penultimo, non dell'ultimo anno. E ben prima del penultimo anno, anche due anni e mezzo prima almeno, per non deprezzarlo. Che cosa succede? Che ovviamente se non trovano l'accordo il giocatore inizia la stagione in scadenza e il coltello da parte del manico. A parte che si è deprezzato totalmente, ma roba da fantascienza. Un giocatore che già con le sue prestazioni si è deprezzato, ma ovvio che un giocatore che inizia l'anno in scadenza contrattuale è totalmente deprezzato. Non prendiamo manco 4.000 lire di quelle vecchie. Un imbecille, un imbecille, ma si rinnova. Ora doveva iniziare la stagione discutendo sto contratto. Si discuteva in primavera e già era tardi, la primavera dell'anno scorso. E' allucinante, è allucinante. Non ho mai visto una roba del genere. Da dilettante, è un dilettante. Un dilettante, dopo il caso Suarez, sì. Sempre più dilettante, perché non ci scordiamo che dopo aver occupato i due slot dagli extracomunitari ha cercato di prendere Suarez. Parole di Suarez. Ho firmato, avevo firmato un precontratto con la Juve. Ragazzi, parliamo seriamente. Che cosa vuol dire? Ho firmato un precontratto dopo che hai occupato gli slot extra comunitari e non ti sei premonito di sapere se fosse comunitario o extracomunitario Suarez e quantomeno quali fossero i tempi per una cittadinanza. Noi lo sapevamo, l'abbiamo detto, che erano dai sei mesi a un anno, anche di più, per ottenerla. Ma come la volevi ottenere in tre o quattro settimane? Imbecille di un paradice. Imbecille. Già questo è stato una cosa a sti livelli da dilettante assoluto e meritava di essere frustato solo per questo. Ma questa di Dybala le batte tutte. Le batte tutte. Perché non è possibile ridursi ad arrivare al prossimo settembre con un giocatore in scadenza, così, dove potevi fare benissimo cassa. Ora, se troveranno un accordo, tanto meglio, per l'amor di Dio. Io non ritengo che Dybala valga quelle cifre perché la Juve ha offerto 10 milioni di ingaggio. Io ritengo che non li valga. Ma comunque arriverebbe a essere a ridosso dei primi top 15. Diciamo da diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo giocatore più pagato del mondo si porrebbe con i 10 milioni all'anno. Lui forse ne vuole di più, così dicono. Se non troveranno l'accordo, è chiaro che Dybala si aspetta di più dalla Juve. Si considera probabilmente forte. È la famosa storia che gli hanno fatto credere che fosse più forte di Messi dopo quelli di Juve Barcellona. Lui stesso si è sopravvalutato e si sente di valere più di 10 milioni all'anno, che mi sembra meno abbesterno. Un giocatore dotatissimo tecnicamente. I suoi piedi mi entusiasmano. I suoi piedi, la sua testa no. Perché l'ho sempre detto che è un giocatore che soffre la concorrenza. Un giocatore debole di carattere, debolissimo di carattere. E ogni volta che c'è una sorta di concorrenza, Dybala si butta inevitabilmente a terra con prestazioni scandalose. Senza parlare poi del grande equivoco tattico di Dybala, che non si sa mai dove metterlo. Che lui ogni volta che non è né punta né centrocampista, non vuole giocare in mezzo, non vuole giocare troppo davanti. Torna dietro sempre per toccare dei palloni e svuota l'aria. Insomma, le solite cose. Ripeto, un piede dellutato, un piede sopraffino, ma con tanti tanti problemi. Di collocazione tattica e di testa. Di testa, diciamolo ragazzi. Di testa. Di testa. Le tante partite importantissime, sbagliate lo testimonio. Ma comunque, se ci sarà un rinnovo lo accetteremo. Ma se non ci sarà, ripeto, non potremo venderlo a gennaio. Magari poteva andare in qualche scandalo, potevamo fatturare qualcosa. Non potendo venderlo a gennaio, e ripeto, già era tardi, il giocatore andrà a iniziare la prossima stagione in scadenza di contratto. Coltello totalmente dalla parte del manico di Dybala, che ci cagherà letteralmente in testa. Lui e i suoi procuratori ci cagheranno in testa e faranno quello che vogliono. Dovremo accettare, accettare le sue richieste. Accettare le sue richieste. Perché, ripeto, non lo puoi vendere il prossimo settembre neanche a 10.000 lire di quelle vecchie. perché è in scadenza di contratto. Complimenti al dilettante Paradici. Veramente, non se ne vuoi più di un dilettante capodirigente della Juve. Maledetto Paradici, Paradici out. Fino alla fine, Paradici out.